Questo ragazzo è un momento, diciamo, un'artista solitario, è un vitalista un po' insolito, ci dedicherà una canzone, un po' triste, vabbè pensandoci tutta soffa a Erika la rabbia per un mondo che ormai è sottosopra. Per i miei signori, Samuele. Vai Samuele! Il signor potete dire perché non ho il microfono, altrimenti non sentite parlare, grazie. Io mi sono occupato perché non è un disagio onale, perché quest'anno, dopo quest'anno, perché quest'anno non c'è piante soffrente, magari, però magari se è giusto, lo vorrei, profondamente rispettare, cantarvi qualcosa che forse non mi piace molto bene. E' veramente molto buono. Non lo dico, cioè, in un momento posso imparare un monore, così qui, dove, solito amare dentro, di parlare di determinate cose, ma lì, e cos'è sarà il microfono, un biciclo? Ma no, forse, un biciclo, ma che cosa? Ah, forse è una monocicletta, no. Senti, che favore, mi stai venendo un peccetto? Senti, che favore, mi stai venendo un po' con il nostro bambino, ma che vengono un grasso? Senti, che favore, mi stai venendo un po'? Senti, che favore, mi stai venendo un po' con il nostro bambino? Senti, che vuoi un buon gemo? Non c'è uno che, perché non c'è uno che, ma io pensavo, pensavo, ma diceva tre volte, io pensavo che servisse di poco, ma è un grande grande gamba, Io vorrei sapere, felicissime, se canta questa parte, lei può mettere in questa parte? Vado a provare! Bravo! Scusa, io la canzone è triste a questo punto che non la faccio più, ma vorrei qualcosa altro che sono più allegro, effettivamente, dopo che questa parte dita si è risentita abbastanza disallevata, e magari facciamo così a quella canzone. E io la canzone, non ma io le ho sapere, ma io le ho sapere. E io so le ho sapere, credo che io sia il mondo delle persone, che c'è... e l'innocenza sulle donne tue non lanciano pure nella cantina buia dove noi respiriamo piano e il governo è nuovo mi stai facendo paura non ho mai come se sa la cosa tanto mai una donna, donna, donna di piccolo Siamo qui inserona, non lo dai, non fa me, e la tua moda stessa, la tua moda cambia, e la tua testa e la tua moda, la tua moda, la tua moda, la tua moda, la tua moda. O mare ne, o mare ne, o mare ne, tu è di fare passavente, o mare ne, o mare ne, o mare ne, o mare ne, o mare ne. Samu, Samu, sei a te, Samu, stavi sognando, sì, stavi sognando, tu non sei un giovaniere, tu sei un ginnasta, no, no, hai visto, era un sogno, guardati intorno, guarda, guarda bene. Siamo in una palestra, no, 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 guarda, guarda dintorno, cosa vedi, cosa vedi, un ginnò, si mangia, prova, no, non si mangia, è un attrezzo, si usa così? No, non proprio, poi dintro, poi è di meglio, però ricorda, ricorda. Ben vi合ato! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.